Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Andiamo avanti con la grande ruota. Questa settimana parliamo di uno dei piani più cicciosi di tutti perché questa settimana andiamo a vedere dove la legge e il male sono in equilibrio questa settimana la dedichiamo a esplorare gli inferni. I nove inferni di Bator, a volte chiamati semplicemente il Bator o più semplicemente chiamati l'inferno, sono il luogo dove il male e la legge sono in equilibrio tra di loro. È un luogo di crudeltà istituzionalizzata, è un luogo in cui la logica viene messa al servizio della diffusione del male. I nove inferni si chiamano così perché il piano è diviso in nove anelli concentrici. Ogni anello fa una storia a sé, lo vedremo dopo. Diciamo che per quanto ogni girone dell'inferno sia diverso all'altro tutti sono virtualmente ugualmente letali per qualunque creatura vivente con l'eccezione di alcuni che lo sono molto di più. Il principale pericolo del piano però non è dato dalla sua geografia ma è dato dai suoi abitanti. Le creature native del Bator sono i diavoli, esseri creati alla stessa quantità di legge e di male che hanno dato origine a una società rigidalmente castale in cui è possibile il movimento sociale ma solo accoltellando chi si sta al di sopra e fregando chi sta al tuo sotto. Chiunque che ha mai lavorato in un ufficio per più di qualche settimana sa esattamente di cosa sto parlando. Qui finiscono le anime tecnicamente di coloro che hanno servito la legge e il male in ugual modo e che hanno speso le loro vite per portare avanti gli ideali del male della legge ma in realtà non sono tutti volontari all'inferno. Anzi la maggior parte delle anime che finisce qua appartiene a persone che non hanno mai volontariamente contribuito al male o alla legge ma i diavoli dedicano gran parte del loro infinito tempo e infinite risorse a corrompere i mortali, far spostare anche inconsapevolmente il loro allineamento appunto per avere più anime da destinare all'inferno. Qui le anime sono letteralmente usate come carburante nelle macchine da guerra demoniache dei diavoli o accorpate assieme in bozzoli larvali da cui verranno generati nuovi diavoli, ovviamente tutto questo al servizio della guerra sanguinosa che brucia continuamente risorse che quindi richiede costantemente nuovo personale. E' relativamente facile spostarsi lungo l'inferno perché il fiume Stige, il grande fiume che collega tutti i piani del male, lo percorre nella sua interezza saltando solo qualche piano, ma un gruppo di avventurieri abbastanza determinato e con abbastanza soldi per corrompere i diavoli che controllano le sue rive potrebbe farsi strada all'interno con relativa facilità. Quello che però questi avventurieri non sanno è che i diavoli sanno benissimo che è abbastanza facile addentrarsi all'inferno, non prendono misure per evitare che questo sia così facile semplicemente perché è economicamente conveniente per loro che la gente vada all'inferno e possa essere corrotta in loco senza che debba essere poi trasportata dal piano materiale per arrivare fino lì. Il Bator è diviso in nove gironi concentrici che esistono uno all'interno dell'altro e il primo di questi gironi, l'Averno, è il punto di arrivo della maggior parte dei portali planari diretti all'inferno. Averno è un'enorme pianura desolata interrotta da crepaci in cui scorrono fiumi di lava costantemente oscurata da un cielo pieno di fumo. Qui si trovano i portali d'ingresso come detto, molti dei portali che conducono alle zone più basse. Lo Stige scorre in questo piano è molto facile vedere le armate infernali che o si addestrano per la guerra sanguinosa o si radunano per partire per andare a combattere un altro piano. Non è comunque infrequente che i demoni riescono a raggiungere questa zona dando origine a battaglie particolarmente feroci. Dis, il secondo strato dell'inferno, è una palude di acque nere e tossiche interrotte semplicemente da qualche collina piena di vegetazione e marcia. Ma la caratteristica più rilevante nel piano da cui deve il suo nome è che qui si trova la città di Dis, una delle più grandi metropoli planari. Tecnicamente Dis è considerata al centro di un lago, in realtà le fortificazioni di Dis sono così imponenti che l'enorme lago tecnicamente infinito che la circonda non è altro che il suo fossato, che è la prima linea di difesa prima di arrivare alle mura di Dis, così imponenti a non essere mai state violate nell'eternità, la cui superficie è rovente e dà fuoco a chi le tocca e lungo cui sono appesi i supplicanti che hanno tradito coloro che li comandavano durante le guerre o le battaglie. Dis ovviamente è una metropoli che all'apparenza è lunga miglia e miglia. In realtà l'interno di Dis è a sua volta uno strato infinito di corridoi labirintici, mercati in cui si vendono tutto quello che normalmente ti manderebbe in galera sul piano materiale e da ogni punto della città è sempre possibile vedere la torre di ferro, l'edificio più imponente nella città che la domina letteralmente estendendosi attraverso il piano, dove c'è la corte di Disparter, il signore del secondo abisso. Le putride acque di Dis colano a formare il bacino fluviale di Minauros, il terzo strato, un'unica immensa palude piena di malattia, non morti e creature così terrificanti che gli stessi diavoli tendono a tenersi a lontane dalle paludi di Minauros. Gli unici due punti diciamo civilizzati del piano sono la città chiamata anch'essa Minauros, dove c'è la corte di Mammon, il signore del terzo e uno se non il più grande mercato degli schiavi della grande ruota e la cittadina di Jungle Heater che è una città sospesa su catene sopra una voragine infinita che è il luogo d'origine dei diavoli delle catene e diciamo è il posto dove andare se si cerca qualcuno veramente bravo a torturare. Quando si pensa all'inferno però normalmente l'immagine che viene evocata è quella di Flagestos, il quarto strato, che è formato da un mare di lava su cui galleggiano isole di Ossidiana. Il caldo è letteralmente infernale, palle di fuoco scoppiano a caso nell'aria e l'unico posto relativamente abitabile è la città fortificata di Abrimok che praticamente è l'ultima linea delle difese esterne dell'inferno prima di arrivare a quelle interne perché i diavoli su queste cose sono particolarmente paranoici. Suo specchio opposto estigia il quinto inferno, qui le acque del fiume stige che saltano il quarto strato vanno a formare letteralmente un oceano che non ha fondo, la temperatura è costantemente molti gradi sotto zero e l'intero piano è fondamentalmente un paesaggio artico su cui enormi iceberg popolati da diavoli, principalmente diavoli del ghiaccio e i loro servitori, galleggiano su questo mare nero gelato senza possibilità di trovare la via di casa. Fondamentalmente per molti viaggiatori planari il loro viaggio, la loro catabas nell'inferno terminerà qui. Il sesto strato Malabolgia è dominato da quelli che sembrano i resti distrutti di quella che doveva essere una città che si sarebbe estesa per l'intero piano. Oramai non si sa chi erano gli abitanti originali, probabilmente queste rovine sono precedenti all'arrivo dei diavoli nel Bator, ma quello che resta di loro oramai sono edifici anneriti, accatastati gli uni sugli altri, la temperatura è molto calda, a volte le rovine crollano e fanno uscire fiotti di lava o vapore incandescente, è veramente difficile muoversi a piedi e il piano è dominato principalmente da tutte le creature infernali volanti. Il settimo strato Maladomini è un paesaggio post-apocalittico, ci sono anche qui alcune rovine come nel sesto ma il paesaggio è principalmente composto da un deserto incandescente dominato da pozzi di core nero e in realtà un sacco di città abbandonate da alcuni piccoli insediamenti a metropoli veri e proprie che vengono costantemente costruite nuove e poi lasciate all'abbandono dai diavoli che abitano questo piano, in realtà dai supplicanti che in questo piano vengono torturati e puniti in questo modo. Kania l'ottavo inferno è una terra di gelo assoluto, non parliamo degli iceberg di Stigia, qui la temperatura raggiunge i meno 60, il paesaggio è un'unica catena montuosa ininterrotta praticamente priva di vita perché nulla può sopravvivere, l'unico punto di calore di tutto il piano è Mephistar, la città di ferro dove c'è la corte di Mephisto, il signore del fuoco infernale e il signore dell'inferno che viene molto spesso cambiato per Asmodeus senza esserlo, perché Asmodeus il signore del nono e sovrano dell'inferno sta a Nessus, ovviamente il nono inferno, il punto più basso che si può raggiungere del Bator, che è una terra fondamentalmente cupa e piatta, se non fosse che dal centro del piano si estendono crepaci a voragine, anche in questo caso letteralmente senza fondo, che la tradizione vuole siano le crepe che sono state lasciate quando Asmodeus è stato schiantato nel Bator dopo essere diventato malvagio. Ora l'interno di queste crepe è stato nel corso dei millenni cavato come un enorme alveare, sono stati lanciati i ponti da una crepa e l'altra e qua esiste una schiera infinita di demoni, l'armata di Nessus, che è l'ultima linea di difesa dell'inferno e la più potente delle armate immonde, o almeno questo è quello che dicono i diavoli, anche se da qui l'armata non si è mai mossa. Qui c'è anche un lago formato dal gocciolare dell'ostige dei piani superiori dove si dice che le memorie vadano a morire e chi si affacci a questo lago possa vedere i propri ricordi trasformati in immagini mostruose e ovviamente qui c'è la corte di Asmodeus, qui è conservata una copia del patto primordiale e non ci sono supplicanti, in realtà senza un esplicito consenso di Asmodeus nessuno può arrivare così in basso all'inferno. Mi rendo conto che questo probabilmente sarà il video più lungo di questa intera serie, ma sull'inferno c'è veramente tanta roba da dire e non avete idea di quello che ho dovuto tagliare. A quanto pare l'inferno è uno dei piani preferiti anche dagli stessi sviluppatori, non vedo altre motivazioni. Comunque, come sempre se avete domande, dubbio, perplessità lasciate un commento qui sotto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.